Mi giù di nutre con le capsule. Cos'era quel deliceo grafico? Oh! Attenzione! C'è la vena non mi piace. Timo. Il tuo cazzo di Timo. Mi ha rotato a quarti di Timo. Anacta. Cos'è anche oggi skin bruttine? Atrox. Io volevo un'altra legend però. Guarda. A quanto pari sì. Mi spiace tutti i fan di Tryndam. Questa l'avevo buttata. Adesso la riottengo. Ottimo. La mappe. A zero. Se lo puoi anche tenere. Timo. Questa cosa o via. Rammus. La 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 la. Può forse solo la Rakan non è cutile lì in mezzo. Ragazzo la metà rossa. No. Rorro. Non rischio. bello Sorakan così ce li teniamo qua ah sì vedi che domani offre qualcosa di interessante oh bad no e vabbè non si può essere sempre lucky nella vita sì al prossimo video goodbye